Una interrogazione parlamentare per chiedere al Ministero se i progetti speciali per la realizzazione degli impianti di risalita ai prati di Tivo e sulla Scendarella a Campo Imperatore sul Gran Sasso, annunciati dalla Regione e dal Vice Presidente Lolli, siano effettivamente realizzabili e possibili secondo i vincoli imposti dalla Comunità Europea e dal Parco Gran Sasso-Monti della Laga. A presentarla sarà l'On. Fabrizio Di Stefano di Forza Italia che fa notare come sul sito dell'ente Parco, nella sezione dedicata alle tavole del piano del Parco, non siano presenti i progetti speciali approvati dalla Regione. Dimenticanza o contrarietà gli impianti da parte del Parco? Su questo chiederà il parlamentare forzista di fare luce al Ministero. Mi è sembrato strano non trovare, al contrario di tanti altri progetti regionali che invece vengono riportati, non trovare questi due progetti importanti. E allora l'eventuale mancanza va chiarita perché se è una chiara volontà del Parco a non consentire questi impianti diventa un conflitto istituzionale non di poco conto. Se invece è soltanto un errore materiale va comunque rivista la VAS, va comunque riavviato il pregiudimento e quindi va più presto rimesso in campo tutto l'iter per poter finalmente dare vita a questi due impianti importanti. Siccome questo è un dubbio che non possiamo lasciare in sospeso ne ho fatto oggetto di interrogazione parlamentare che spero sarà discussa molto presto. Per il consigliere regionale Iampieri sul piatto c'è molto di più in ballo oltre agli impianti futuro delle aree interne e posti di lavoro che per l'esponente azzurro sono stati paventati solo in ottica elettoralistica dal centro-sinistra. Io sono molto preoccupato perché il Gran Sasso rappresenta un volando di sviluppo economico fondamentale per l'Abruzzo interno. Io ringrazio l'onore di Stefano che si sta interessando a questa problematica. Non si può pensare sostanzialmente il centro-sinistra da un lato vuole promuovere investimenti, vuole lanciare la scendarella e poi la inserisce all'interno di un SIC. Questa è un'evidente contraddizione perché se sta all'interno del SIC gli impianti non si possono realizzare. Io credo che bisogna fare chiarezza, non si può fare neanche il gioco delle parti che tra parco e regione tutta interno al centro-sinistra si crea questa dicotomia, poi si bloccano gli investimenti, si magari fa solamente propaganda per le elezioni e chi ci rimette è l'Abruzzo interno, è la popolazione che vive nelle aree interne e rurali che può vedere nel Gran Sasso come avviene nelle Alpi, come avviene in tante realtà che hanno anche meno dal punto di vista naturalistico del Gran Sasso, l'aspetto veramente museale non è sufficiente a dare una prospettiva. I solisti equilani presentano la stagione artistica 2016-2017 che si apre con il concerto evento alla Philharmonic di Berlino il prossimo 20 ottobre. Tanti gli appuntamenti in programma, ospiti delle più importanti società concertistiche in teatri storici quali il Teatro Argentine di Roma e il Carlo Felici di Genova. Sicuramente l'evento più importante è l'apertura della stagione, un'apertura della stagione che ci vedrà impegnati a Berlino, ospiti della Philharmonica di Berlino che per tutti coloro che si intendono di musica è sicuramente un punto di arrivo, un punto di arrivo che è frutto anche di un lavoro lento, faticoso di tutta la struttura, di tutto il consiglio, di tutti i dipendenti e soprattutto di tutta l'orchestra, il complesso da camera che oggi è un complesso riconosciuto, affermato e che gode anche di un consenso che non è più localistico, infatti vedrete pochi concerti sull'Aquila e molti in tutti i capoluoghi di provincia italiani. Non una stagione concertistica comunemente intesa, ma una vetrina delle migliori produzioni che i solisti equilani porteranno in Italia e nel mondo, protagonisti sempre tutti componenti dell'ensemble che si esibiranno a rotazione in ruoli solistici di elevato impegno virtuosistico e interpretativo, ma non mancheranno collaborazioni artistiche prestigiose. Ci sono tanti concerti, tanti artisti ospiti con i nostri solisti, aquilani che si esibiranno appunto per un repertorio molto vario che va dalla musica antica alla musica contemporanea. Voglio citare tra tutti due artisti straordinari, prestigiosi come Miscia Maischi e come Vladimir Aschenazzi, con i quali non solo terremo dei concerti qui all'Aquila, ma effettueremo anche delle tournee. Penso ad esempio al concerto che terremo con Vladimir Aschenazzi al Teatro Carlo Felice di Genova il prossimo marzo.